I volumi sono giusti Procedo, procedo Allora, andiamo, storia d'episodi Il volume del gioco è alto o è giusto? I volumi sono giusti, ragazzi Che comunque parlano nel gioco, quindi forse Vale la pena sentire, no? L'uomo, il mito e la leggenda Mahmoud è in città e alcuni appuntamenti Riuscirà a sedurre la sua Abibi? I 25 anni di differenza lo aiuteranno o saranno d'impiccio? Obiettivo l'amore della tua Abibi Bisogna fare scopare lui oggi, ragazzi Finally Un attimo che sistemo l'audio Che mi state rompendo il cazzo Che l'audio è alto E allora lo metto così Ho abbassato l'audio del gioco Ok Meglio? Voglio solo controllare se voi vedete tutto corretto o meno Eh, infatti io sono sopra le domande Cazzo Mi devo mettere qua in alto Mi rimpicciolisco, mi faccio piccolo piccolo Così proprio Un cogliancello qua in alto Ok Scegli la foto profilo su Tinder Ovviamente dovete dirmi voi Quale volete Una foto di un modello arabo Una foto di Richard Una foto veritiera Una foto Vecchia di Mahmood A, B, C o D Votate, grazie B, 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 C A, B Sì, questo è un format utile Anche per capire poi come provarci La B è la più votata Quindi ho una foto di Richard Cazzo, però abbiamo scelto una foto Che non è la nostra Abbiamo scelto una foto di un altro Che locale scegli? Ah, non si leggono i sottotitoli Come mai? Cosa c'è che copre i sottotitoli? Questo forse Porco cane, che casino Vabbè lo metto qua Ok Che locale scegli? Una bettola di bar per millennial Un ristorante costoso Una bevuta in un bar di tendenza Prego votate Amici C, A, B, C, B, A C, B, C, B, A, B, C, C, A, B Grandissimo Bonza Grandissimo Bonza Grazie mille Grazie mille Grazie mille per aver regalato Grazie mille Grazie mille per aver regalato gli abbonamenti B, A, B B So yeah, if you're kind of an older cool guy, I think a restaurant is a solid one, especially compared to some environment where it might seem old, like a trendy bar Yeah, and also if you are very clever with where you pick, I think that shows a little bit more thoughts just gone into it, rather than just the fanciest restaurant, or most popular So Mahmoud, what's going on? Yeah, Richard, I'm busy today, you know I have business meetings Well, I've got a date with a beautiful American girl tonight You know me Lui fa paura, cazzo, lui fa paura, sto Richard Of course Mahmoud invece è un duro Eh, mi dissocio All right What's the game plan? The game plan is I will go, meet her seduce her And slay her Salam alaikum Bye Salam alaikum Ah, mi sta chiamando? Hello Però con sound c'è ragazzi Con sound c'è Potrebbe essere il re di Instagram in queste condizioni Già tutto sudato come me E arriva Che voto diamo alla ragazza? Da 1 a 10 Voglio la chat Chat, chat Da 1 a 10 Il voto alla ragazza 8 Ah, cazzo è vero Voi mi avete detto di non mettere la nostra foto e di mettere quella di quel figo di Richard e quindi ovviamente la ragazza è arrivata e ha visto che non combacciamo molto con la foto con la foto appunto che abbiamo messo su Tinder Questo è un problema questo è un problema E quindi adesso come risolviamo la situazione? Ammetti che è stato un errore della tua assistente scusati Nega, 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 nega Anche tu sei diversa dalla foto sembri più vecchia accusala di essere superficiale Andiamo tutti con la La decapiterò No, mi dissocio Ok, ok, ok Ok, ok 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 Thank you so much I appreciate this But only for 5 minutes Please, be seated Ok 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 There's no good option here Cos'obviously there's no business being on Tinder But being a little bit playful and you know going from there is about the best option here Yeah Is this where he's? Due, due Yeah, he uses someone else's picture and blames his PA This is just how you get out of the Oh, blaming the PA that's a really good shout Yeah, and it's high status cos'it says you have a PA It's true Emma, how about some tea? Sure Tea for two I think we should get some shisha They do lovely strawberry and taffa Del... Mh 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 Che la Eh Pronto Yes sir My child Strawberry and taffa del shisha for me and my princess Pronto Yes sir Pronto vuol dire veloce Ricordiamocelo Pronto rendila felice rendila felice facendole molti complimenti chiedile se è ancora vergine complimentati con lei dicendo che assomiglia a tua figlia falli complimenti perché non è superficiale e non giudica a priori come la maggior parte delle donne della sua età bcd b ovvio b abd qual è il vostro voto ragazzi? b no b è vabbè ce la bruciamo b ragazzi vabbè nooo mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio ma che gioco è questo che mi avete consigliato sbagliata come risposta quindi AC o D D stagliata come risposta ma che è stato molto felice oggi credo che questo è un momento molto speciale per tutti per noi Oh, I appreciate the compliment I try to give everyone a second chance Your inner beauty shines through Thank you Cheers Cheers That's bloody judgment to shallow women, yeah? Flattery 101 So, ma'am What do you do for a living? Adesso dobbiamo rispondere cosa facciamo nella vita Allora A Di che ti lavori per l'azienda Di che ti lavori per l'azienda di famiglia Che si occupa di cerniere La YKK Ho passione per il mio lavoro e provo a fare la differenza Ascolta, non sono venuto qui Per parlare di affari con una donna Dile di non preoccuparsi per i soldi Penserai tu a lei Qual è la vostra risposta? D D D D C A D Cazzo ragazzi, non sietevi d'accordo D No, maybe so Sop 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 That No You won't get a better opportunity in your life to be wealthy Any opportunity is a better opportunity than you I'm done Bye Cazzo Grazie ragazzi Ehi, è il mio lavoro e la mia vita Sop Ehi, non so Sop 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 Qual'è che mettiamo ragazzi? La idea è stata molto sbagliata. La A. La C. La C. La C. È stato molto divertente. La C. puoi mi portare un'altra zippa? excellent, allora è che non è la più bella ma è divertente perché è anche si trova tu e sa te giocare e hai un po' un po' riuscito o non ha capito che sei giocare e pensa che ti ha realizzato un YKK Zip e quindi è proprio ridiculoso ho mai mai ho visto un YKK Zip è vero? è quasi ogni zip? No, io sono una bambina di bottone. Bambini? Richard è il vero king del cringe, veramente. Emma, ti ho detto che sono un ufficio? No. Sì, voglio aiutare in una comunità quando posso. È bellissimo. Che cazzo fa? Ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Por favor, sono pronti per te. So, Mahmoud, cosa vuoi fare in tuo spare time? Emma, questo non è un po' di Mahmoud, è un po' di te. Cosa vuoi fare? Me? Mi piace leggere, scrivere, danse. Danse? Che tipo di danza? Mostly ballet. Ballet? Yeah. Ressianna ballet? I've never seen much of that. I'm going to put her some tickets. Maybe. Fai una supposizione su di lei basandosi su intera e si chiede se ha mai fatto sesso in groppa a un cavallo. Ragazzi, mi dissocio, quale volete? La B. Mi dissocio, Mahmoud, che cringe, incredibile. Mi, 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 Emma, Emma, go! Emma! 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 Sì, è una storia. I had a friend from Syria and he was telling me how cool it was for sex on a horse and he invited me to Syria because he's got stables and he wasn't gay but it was strange Very strange I mean with him I gathered that one Maybe because when it moves it kind of wobbles I don't know So you like to read which means you're intelligent You like to write which means you're curious and you like ballet You are cultured Am I right? Five stars for my mood and I'm not being patronizing Thank you so much That's the right answer Making assumptions is a nice way to break up the questions and statements that you might otherwise have and it's cool because when you try to make assumptions you're obviously going to need to listen well and you're if you get it right it's impressive if you don't it at least shows you're making an attempt to connect and to listen There's a stele in front of the camera There's a stele in front of the camera What the hell You see that I don't know how to use this social incredible Well, sorry I've never been anywhere like that I only dine in the finest places Lucky you Yeah Hooker please So your daughter is beautiful sir Oh merde Chiedi dei suoi progetti per la carriera sicura Proponi una cosa a tre Chiama la sicurezza Mohamed li non è molto felice B, C, B, B, B La B I have a great idea He's a good looking boy I have a threesome Me at the front Him at the back It will be the best order Come io davanti lui dietro mi dissozzo Sorry, I almost got sick Um... No, I have a better idea You two guys can fuck each other And I'm leaving It was just a suggestion You don't have to walk off Cazzo ragazzi ma anche voi vi consigliate le robe You want to join me? Never do that Freesomes or waiters or anything, yeah? What do you think? Bile Bile Thank you for the compliment my boy I know you want to date You're not in a very good job What great options do you have? Uh... Uh... Don't worry yourself Have a little think Come back when you're ready Okay Nice one That's a cool way to kind of put him on the spot You know this young guy comes like that And how can you make him a little bit uncomfortable And kind of show your power That's the way Yep, take control of the situation I suppose that's the best way to do it So, tell me Mahmoud, how old are you? Nella mia famiglia diciamo che è solamente l'età di tutte le tue spose bambine messe insieme Mi dissocio Ho 50 anni ma sono ancora giovane dentro Dilla che è troppo giovane per te E chiedile se è una persona matura No, no, dai la, no, dai Facciamo i seri ragazzi Grazie a Vodimeleo, me l'ho letto Vodimeleo tu A, B, A B, la B I'm 50, but what is age? Age is just a number Yeah, I guess so, that's true I can get along with people of all ages Do you normally like younger women? I love younger women, you know, because I'm young back hard I've got so much love to give everybody What happens when they get a little older? I'd bless them with the next model Oh, I'm not rude, you're too much, really I'm everything for you Eh, fair enough, I guess so Yeah, this is not the best way of handling it It's one of those critical moments Where either she's gonna get the impression that he's an old fogey loser Or she's gonna start to think, you know, that he's older and wiser And maybe she's too mature So, in this moment, either he can work to appear younger Or she could work to appear more mature I think saying that you're young at heart Insinuates that you are older That being young at heart Aside from your heart, in other ways Yeah, yeah, but it makes it pretty obvious, you know You're drawing attention to maybe the wrong thing Yeah Linguaggio del corpo da adottare Mantieni uno status elevato come se stessi intervistando qualcuno per un lavoro Copia sui manierismi per sviluppare un legame Leccati le labbra in modo seducente e fai l'occhiolino Avvicinati per mostrarle che sei interessato ad ascoltare E anuisci per sembrare credibile ai suoi occhi O farei copia ai suoi manierismi Mamma mia che imbarazzo Ciao Davide So yeah, if you noticed in my office in the pharmaceuticals company I've got the NLP Master Practitioner certificate So obviously we learned all this mirroring and matching and body language stuff But I've found that it's much better to get a real connection with the person To listen really well, focus on that stuff And what you'll notice is that when you have a good connection You could just be like, oh, we're naturally We're naturally married You're both doing that We're both doing that We don't want to get caught out not listening to what you're saying And if she does match your body language It's an indicator of interest a lot of the time Or at least means you've got that connection Cazzo è il PNL Piano Nazionale di lavoro Fingi di rispondere a una chiamata importante del presidente Robert Mugah 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 chi è questo? è Robert, mio amore! Robert Mugabe! il tuo amore è Robert Mugabe? oh mio Dio! wow non c'è molta gente ashtag GoldDigger in chat, per favore ok, quindi l'ultimo Robert Mugabe triccio che hai anche importanti cose buono? no, e anche, sei davvero poter rispondere il telefono per il Presidente? il Presidente di qualcuno che è così importante penso che sia solo che lasciate la tavola se è così importante altrimenti ci mostro che hai un'app per adolescenti avevi detto di essere matura chiedi di aiutarti a configurare un account sino già uno hai un'app per adolescenti avevi detto di essere matura chiedi di aiutarti a configurare un account sino già uno ti aggiungerò al gruppo con le mie tre mogli sì, ho già un account il mio nome utente è amante passere adolescente per sempre chiediamo di aiutare a... happy chat è davvero divertente happy chat? sì non sai cosa è? senti un account posso sicuramente aiutarti sì quale usurname ti darai? l'Iron Sheik l'Iron Sheik l'Iron Sheik l'Iron Sheik l'Iron Sheik non è mai avanti l'Iron Sheik quindi abbiamo sbagliato secondo Richa scusate non sono in migliore ho solo ho messaggio il migliore su happy chat il mio amico l'Iron Sheik ha lasciato il mondo e non posso prendere l'Iron Sheik non credo che sia aiutare con nessun nostro quindi dalle un mucchio di soldi e chiedi le quanti centimetri vuole del tuo Big Mac mi fidavo di te ma sei interessata su dei miei soldi ci siamo appena conosciuti ma sembra che mi possa fidare di te perciò non avrai problemi un altro un altro un altro un altro perciò quale in un altro un altro ovun stai avanti god Mi dissocio, mi dissocio Mi dissocio Emma, vieni qui Ah, vodimello, vodimello vodimello tu, si si si, adesso chiudo e facciamo su Warby dammi solo un secondo che finisco qua e ci sono su Warby 30 secondi Ah, sono 230k, 25 bitcoin Chiuderei il gioco un attimo, perché voglio fare la videochiamata come cazzo faccio a chiuderlo così, proprio brutale e poi adesso mi tocca chiudere questa Grazie a tutti Grazie a tutti